Ciao a tutti ragazzi No in realtà sappiamo tutti che Skellige è ben lontana dall'essere la fazione più forte potremmo anche dire in realtà che è la fazione più debole però a me è una fazione che piace è una fazione che diverte e soprattutto chi di voi come me probabilmente è già in pro ladder ha bisogno di fare le placement anche con questa fazione quindi io ho sperimentato tantissimo Skellige e questa è la lista migliore che sono riuscito a montare ed è una lista piuttosto performante poi andiamo a vedere perché prima di partire vi invito se questa serie di video di guanti che vi porto vi piace o vi serve di lasciare un like qui sotto al video e di iscrivervi al canale perché dobbiamo arrivare ai mille ancora di strada detto ciò allora perché Skellige è così debole normalmente però dico io allora si basa su removal particolari andiamoli a vedere abbiamo Morkvarg che è un removal forte ma situazionale perché se Morkvarg non trova target buoni chiaramente costa 10 quindi è una mezza diciamo per usare francesismi è come cagarsi adosto le unità forti di Skellige che possono essere la combinazione di Dracar con Sacerdote di Svalbod può essere la combinazione di Churma Peredatrice con la Dracar piuttosto che con la Shere insomma e via dicendo cosa avete capito da questa spiegazione? Che sono combinazioni di carte perché Skellige non ha unità forti da sole sono tutte forti se combinate con altre cose quindi come avrete capito in un meta dove c'è Nilfgaard che ti leva quello che metti giù se non ha almeno 6 punti forza ma manco se preghi rimane giù regni settentrionali poi mostri che vabbè è forte perché c'è i bleeding che bypassano l'armor quindi sono punti puri poi quelli che portano mostri ci sono vabbè sindacato devo dire perché è forte sindacato e siamo seri no? quindi capite bene che non avere un round corto incisivo contro tutte le cose che vi ho detto adesso è pesante è pesante ed è una fazione che sviluppa virtualmente una tonnellata di punti alla pratica sono tutte unità tall suscettibili a ripristini e suscettibili a tall removal quindi ovviamente contro sindacato che gioca Gradin, Morels, Borsodi, sua mamma, i cugini venuti a trovarlo capite che benissimo che tenere una tall unit contro sindacato è impossibile è altrettanto difficile contro regni settentrionali per via del barone per via del potere di Calanti che fa in modo che il principe Ansei sprenda il più 4 dal principe suo cugino che duella di 8 e quindi insomma tende a cagare il cazzo ecco per una serie di queste circostanze le tall unit di Skelega sono facilmente punibili ma voi direte sì ma ci sono i defender infatti noi in questo deck abbiamo la possibilità di mettere il defender 3 volte e se cazzo ve lo risolve bravo e si merita di vincere l'unico che riesce a risolvervelo 3 volte è indovinate inizia con la S e finisce indacato ecco perché è una fazione ritardata che è vero tutto quello che volete sì eh ma può pescare male se non pesca certe carte però non fa niente è vero infatti ci sono partite che voi giocate sindacato che capita che effettivamente dite mica ma che ho pescato monocrimini che mi ci gratto con ste carte benissimo però se tutte e due le fazioni tutti e due gli avversari cioè cazzo dico tutti e due i player pescano bene sindacato vi prende la mano ve la dà in faccia e vi tira giù perché graden prende vantaggio dal vostro defender morels lo one shotta le taglie più o meno ve lo trombano in un turno capite bene che senza contare che noi abbiamo comunque un buon effetto purify che deve scontrarsi con il defender di sindacato che è il più forte che c'è adesso quindi capite bene che sindacato per una serie di cose è la fazione più forte ora stiamo parlando però di skellige direte ecco questo deck gioca il pacchetto alchimia che comunque è un buon package nonostante i nerf nonostante insomma lo spazio che si è andato a creare nei deck e tutto quanto e in più gioca diciamo il self damage package che è quello di che si giocava prima in svalbard quindi abbiamo lo svalbard sacerdote la draccar abbiamo delle aggiunte nuove come l'orso furioso che dopo il buff è diventata di nuovo una carta e abbiamo anche la predatrice che è una delle carte di questa nuova espansione che comunque va a dare un altro attivatore alla draccar che male non fa andiamo a vedere nel dettaglio allora drago tartaruga altra aggiunta di iron judgements fortissimo è una delle mie carte preferite a parte la figura che puoi mettere dice ogni volta che quest'unità perde armatura si potenzia di un valore pari alla quantità di armatura persa questo è vero come se gliela leviamo uno ed è altrettanto vero come se gliela leviamo tutta in una botta sola quindi se lui ha lei tartaruga ha 6 di armor quindi se noi gli leviamo 6 di armor in una botta magari con un iris prende più 6 se gliela leviamo uno alla volta prende più uno alla volta quindi non è necessariamente che una volta sola che gliela leviamo e poi basta estremamente forte in questo meta soprattutto contro nani berserk perché pingano qua sopra invece che fare dei più uno fanno dei meno uno quindi mi sembra anche una cosa abbastanza prelibansia ed è una carta che solitamente tenderemo ad utilizzare due volte durante la partita che sia di leader che sia di sigdrift insomma cercheremo di utilizzarla due volte capiterà che basti una volta sola non sempre perché come sapete per i motivi che vi ho elencato poc'anzi ci sono certe fazioni arancioni che sono particolarmente tumorali poi tristere cinesi perché giochiamo tristere cinesi? semplicemente perché i target a cui ha accesso trist in questa lista sono target tutti molto molto importanti ovviamente come tutti i deck che giocano trist cerchiamo di limitare a tre le special mentre avrei voluto mettere una copia di almeno di questa carta qui adesso ci arriviamo ci arriviamo ci arriviamo chiedere l'aiuto del pubblico ok di questa carta qui che in sto meta è anche buona purtroppo non volevo briccare trist dovevo avere la certezza di prendere quello che volevo di quello che mi serviva quindi abbiamo doppio tuono di alzor andiamola a vedere collegata a sto punto doppio tuono di alzor che semplicemente è una flat 5x5 che fa danno perché come vi ho detto più volte sia in streaming che no io come personale giudizio mio contro fazioni importanti e spesso beccate come Nilfgaard io penso che Nilfgaard se non riesce a far entrare Damian e Stefan non ha i punti per vincere quindi non vi dovete preoccupare però se riesce a farli entrare invece so cazzi perché lì allora vi prende il sacerdote vi prende la draccar ve li copia ve li resta dal cimitero nostro e se li metti in campo lui quindi le nostre e andiamola a vedere adesso l'altra speciale Freya vanno a Troie e quindi di conseguenza è importante avere la garanzia di rimuovere Damian e Stefan come respirano appena entrano in campo subito e quindi due fulmini sono buoni oltretutto i fulmini poi raga sono buoni contro tante cose sono buoni contro i vampiri da tre di due mostri che mettono bleeding sono buoni contro tutte le engine dei regni perché hanno massimo cinque vite l'unica eccezione la fa Shani ma Shani la becchiamo un game ogni cinque cioè ogni cinque regni non ogni cinque e quindi non è un problema e quindi il fulmini è una carta che vedrete spessissimo man mano che salite di rank rigiocata dai pro così messa giù nel deck perché un remuva al solido per le sue provvigioni trova sempre valore in un modo o nell'altro e la Mardrum la Mardrum insieme alla Freya fanno parte del pacchetto alchimia che insieme al rito di Sig Drifa sono il nostro diciamo package completo per quanto riguarda le special e la Mardrum dice danneggia di tre un'unità e poi la potenzia di nove quindi capite bene che sulla tartaruga questa carta invece che essere una sei per cinque che già comunque non è malissimo è una nove per no scusami è una dodici per cinque perché se noi tiriamo sulla tartaruga prendiamo i nove gli leviamo tre armor e la tartaruga prende comunque più tre quindi è una giocata da dodici per cinque provvigioni è estremamente forte se la tiriamo sulla dracar è comunque forte lo stesso perché assorbiamo i danni con la dracar quindi la dracar prende più uno quindi diventa una nove pulita per cinque quindi è assolutamente molto buona è una carta che io se vi ricordate ho giocato subito appena uscita l'espansione e la gente in chat su Twitch mi scriveva ma per che cazzo giochi in Mardrum che fa schifo fatalità adesso le sono messi a giocarla tutti tutti giocano male questo è un appunto per dire che i giochi di carte bisogna avere inventiva e bisogna saper interpretare il meta poi altra parte del pacchetto package è ermellino semplicemente perché è un tutor per tutte le nostre carte alchimia ok quindi quelle che abbiamo visto finora più dove cazzo ecco la rito di Sigdrifa che è semplicemente come la benedizione di Freya però richiama guardate la differenza richiama questa dice metti in gioco vuol dire che la Freya eventualmente attiva anche i gridi di battaglia cioè gli schieramenti scusate si chiamano schieramenti mentre il rito di Sigdrifa invece richiama vuol dire che mette in gioco direttamente dal cimitero senza farlo passare dalla fase di evocazione quindi chiaramente Triss per esempio non verrà attivata perché è uno schieramento però noi la utilizzeremo principalmente su flat unità che ci serve che vengano danneggiate come prima fra tutti la tartaruga ma anche il difensore ok il difensore di Skellige è un bel difensore perché dice berserker 6 quindi basta che prenda un danno parentesi il berserk 6 non ricordate che il berserk non vi dice a quanti danni gli dovete fare vuol dire a quante vite deve rimanere per attivare il berserk 6 avendo un 7 di body vuol dire che basta che lo danneggiamo una volta alla fine del turno tiene un'armatura quindi se già noi lo attiviamo una volta magari pingandolo con la faccia di Segugio o prendendo un più 1 dal sacerdote di Svalblood questa carta magicamente diventa una 6 che continua a baffarsi all'infinito con un armor infinita se non abbiamo drakkar o altri target buoni per i sacerdote possiamo usare la congrega d'acciaio semplicemente come target per non far perdere valore al sacerdote di Svalblood perché ogni turno prima di essere danneggiato recupererà il suo 1 armatura quindi il sacerdote di Svalblood invece che tirarlo su un'unità a caso lo tiriamo su questo taunt che comunque è un più 2 invece che un più 1 ok è ovvio che sulla drakkar prende più valore alla lunga perché anche la drakkar si buffa ma se la drakkar non c'è ci sta a fare così poi Morkvark come vi ho detto non mi fermo sul decreto perché penso che mai lo conosciamo tutti semplicemente un tutor mette in gioco un'unità dal mazzo quindi mette in gioco come la freya quindi attiva gli schieramenti e tutto quanto si prende semplicemente un'unità che vogliamo noi dal mazzo e la mette in gioco gold bronzo quella che vogliamo e poi Morkvark è un removal buono ma situazionale io prima non lo giocavo infatti se vi ricordate nell'ultimo streaming non lo abbiamo giocato nella vecchia lista perché perché di norma capita che se Nilfgaard riesce probabilmente a risolvere il difensore con uno dei suoi effetti purify a volte la bribery fa uscire Morkvark Morkvark prende un valore buggato sui nostri sui nostri sacerdoti e sulle nostre dracar quindi ci ho perso più di qualche game per sta roba però perché l'ho rimesso perché purtroppo sto beccando tanti deck mostri e i deck mostri Morkvark se abbiamo il last 6 è una win condition non è una carta forte è proprio una win condition perché tira via 100-0 uno 0 da qualunque cifra se fa uno 0 da 14 Morkvark gioca per 19 a costo 10 quindi capite bene che purtroppo è un rischio contro la bribery però è un rischio contro una garanzia di avere una win condition in più vince la seconda purtroppo quindi state solo attenti a Morkvark poi Rizzo di Segugio mi ha parlato da Faccia di Segugio evoca 3 amici di Ariad anche questa è una carta che conosciamo a Bombazza evoca 3 teschietti 3 teschietti token di questi che ogni volta che muoiono fanno un danno quindi iper sinergia con tutte le nostre bronzo che si autodanneggiano la roba quindi con con la piratina blu nuova con il sacerdote con gli orsi che adesso andiamo a vedere tutto quanto quindi i target principali a sto punto li guardiamo adesso per mangiarci i teschietti sono i due orsi che come vedete danneggia di 2 un'unità alleata su questa fila se non ci sono bersagli si danneggia di 2 quindi invece che essere una 5x7 va a diventare una una 7 una 8x5 scusatemi quindi è veramente molto buona tirata sui teschietti è buona anche tirata sulla draccar perché diventa comunque un 8x5 e poi l'altra unità che si autodanneggia oltre al sacerdote che ormai neanche ve lo spiego quanto è forte perché penso che ormai si giochi in tutti i decks che lega da mesi e mesi e mesi e mesi quindi se siete player nuovi leggete pure il testo ma è semplicemente un più 1 costante a fine turno se lo tiriamo su un'unità qualunque se lo tiriamo su target particolari come draccar o unità con armatura eccetera è un più 2 costante se lo tiriamo sui teschi diventa un più 3 a fine turno so che sembra complicatissima detta così tutta insieme ma vi assicuro che dopo che la giocate due volte già vi è chiaro ogni forma di mistero di questa carta e la terza è questa qui la piratina che vi dicevo che danneggia di due unità stessa cosa dell'orso solo che invece che non fare nient'altro si potenzia lei di 4 e ha 1 di armor quindi è una 6 con 1 di armor invece che essere una 7 flat come l'orso niente di più niente di meno poi eravamo arrivati quindi a faccia di segugio l'altro effetto di questa carta è che ogni turno noi possiamo pingare da solo una nostra unità pingare quindi danneggiare di 1 una nostra unità possiamo usarla per consumare i teschi o possiamo usarla per ridurre di 1 l'armatura della draccar ogni volta prima che venga pingata dal sacerdote per proccare continuamente il più 1 invece che proccarlo ogni 2 turni il più 1 sulla draccar lo possiamo proccare ogni turno e possiamo usarlo su mille altre cose per disraptare igni è fortissima questa carta ormai è una carta vecchia quindi sicuramente il 90% di voi la conosce ma per i player nuovi comunque visto che l'abbiamo presi parecchi in questo periodo è una carta che in questa lista ha una sinergia incredibile con praticamente tutto poi arriviamo a questa questa è una carta di riempimento anche se è una gold è semplicemente dice infligge sanguinamente un'unità nemica per 4 turni e mette in gioco una nave bronzo casuale dal tuo mazzo noi giochiamo solo due draccar quindi è semplicemente un tin quindi una scrematura del deck meno 1 nel deck che porta dentro una draccar in più fa anche 4 danni quindi diciamo che è una 8 per 7 già buona che in più fa un meno 1 nel deck quindi ci aiuterà dopo a pescare meglio grazie a questo meno 1 quindi è un'ottima carta è una carta di riempimento che non ti svolta la partita ma è una carta estremamente molto buona oltretutto di solito conviene tirarla su unità con armatura ma se vi serve usarla come soft removal potete usarla comunque anche come soft removal estremamente buona poi gremist questo è un semi package alchimia perché direte voi perché è il minion che serve per purificare in questo deck a fervore quindi la prima charge la attiviamo subito il primo charge dell'ordine e ogni volta che noi tiriamo una carta alchimia si ricarica l'effetto di purificazione di gremist molto semplice estremamente buona soprattutto contro deck mostri e sindacato in cui un effetto di purifying non basta quasi mai usatela con parsimonia contro sindacato questo e poi vabbè due funghi ne abbiamo parlato ne abbiamo parlato praticamente tutte siamo arrivati alla dracca anche questa carta nuova di iron judgment estremamente buona questa unita al sacerdote riporta su gwent il great sword della beta per i playerini un po' più navigati niente di più niente di meno due armature quattro di body ogni volta che perde i due armature prende più uno se abbiamo due bloodthirst in campo si potenzia invece di due quindi ne abbiamo poche di possibilità di fare bloodthirst ma tra fulmini flotta predatrice qualcos'altro modo in realtà quindi se riuscite a massimizzare al massimo brutto dire massimizzare al massimo però sfruttare al massimo questa cosa è tanta tanta roba è veramente molto molto forte e ultima ma non ultima la ciurma letale a scere che è semplicemente un vecchio lupo nel senso come una volta si giocava la monocopia di questa adesso è semplicemente quella lì però di fazione quindi vulnerabile quindi lui ha come vedete due armature quando finiscono i due armature quindi li possiamo attivare con la predatrice col sacerdote con l'orso e bla 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 fa altri due danni quindi diventa una 6 per 4 molto molto sinergica e molto molto buona una delle migliori bronzo giocabili in questo deck e questa era diciamo la lista nella sua completezza passiamo velocemente ai match up allora contro Nani anzi contro Scoiatel non vi dico niente perché ci sono due partite che troverete più avanti nel video quindi vedete da soli come giocare lì ma comunque non è un match up facile lo stesso anche se noi non siamo mal tunati contro di lui per il semplice fatto che se non riusciamo a vincere round 1 e non abbiamo la mano adeguata round 2 i mercenari ci massacrano il culo detta proprio scusate la volgarità proprio ci spaccano completamente quindi dobbiamo puntare a vincere round 1 ma del resto come chi di voi sta giocando in questo meta saprà contro Nani se round 2 ha 9 grad justice quasi di sicuro hai perso qualunque sia il deck che stai usando hello cdpr vogliamo fixare detto ciò contro invece armonia pure c'è un video introduttivo comunque armonia è un match up dove slam point ha abbastanza ma a round lungo se non trova i blocchi sui sacerdoti e riusciamo a prendere valore pieno dalle nostre carte è molto close in termini di punti state solo attenti alla quercia perché la quercia potrebbe essere magari la rimozione su uno dei sacerdoti che vi fa far perdere in termini di slam pointing solo quello slam pointing vuol dire di semplicemente vomitare punti a round lungo senza pensare alla strategia avversaria perché poi comunque armonia non è un grosso problema perché comunque armonia può mettere un veleno alla volta quindi sulle unità importanti noi possiamo usare purify però Scoia'tel sappiamo che in questo momento non ha niente da invidiare a quasi nessuno quindi ovviamente mostri è un matchup dove più o meno la dobbiamo giocare come armonia se siamo contro big regolatevi perché o passate a 7 oppure se volete spingere sotto le 5 sappiate che dovete poi essere in grado di vincere quel round perché altrimenti lui a round corto vi prende a testate mentre invece come dicevo per quanto riguarda il bleed l'unica cosa importante da fare è prendere il portale prima del terzo round è l'unica cosa o quello o basta anche prendergli la regina della notte perché se gioca l'effetto purificazione su qualcos'altro voi potete anche andare a round lungo perché tanto se lui non vi può levare il defender può mettere bleeding solo sul defender e il resto non ce ne potete niente poi Nilfgaard è un matchup semplicemente dovete avere gremist per levare il suo difensore se fate questo a livello di punti lui non vi sta dietro ma ricordate che un tuono di alzur in mano va sempre tenuto ma mai usato su niente che non sia Stefan o Damien vedete voi qual è la peggiore considerato il tipo di carte che giochiamo che sono molto specifiche in questo deck conviene levare Damien ma se noi già abbiamo sia la Dracar sia il il sacerdote a più di 6 punti può essere anche buona cortezza levare se ne abbiamo un fulmine solo meglio levare Stefan perché Stefan può sculare qualche combo con doppia briberi tipo Morkvarga su un target e si in effetti no cancellato è meglio utilizzare il monofulmine su Stefan perché se fa due briberi ci sono più chance che gli esca Morkvarga e vi distrugga completamente i punti unica cosa se riuscite a tenervi doppio fulmine contro Nilfgaard tanto a parte una versione le altre 4-5 liste Nilfgaard che girano tutti giocano Stefan e Skellen e quasi tutti giocano anche Damien quindi non non c'è motivo di non tenerli per quelle due carterie controregni utilizzate i soft removal per le sue engine per il resto come punti se non è che la sua Filippa scula qualche double spam su su Draccar o su o su Sacerdote non ce la fa starvi dietro in termini puramente di punti fattibili dovete solo tirare le engine su cioè i fulmini sulle sue engine ricordate di dare precedenza agli arcieri redaniani sono la cosa che in assoluto vi rompe più il cazzo però state attenti al barone sanguinario che è l'unica vera arma di distruzione di massa che c'ha contro di voi perché può fare veramente male come Morkvarg quando esce dalla Bribery a Nilfgaard tutto lì quando invece siete contro charge calanti e non contro il full control bisogna spingere perché tanto round corto si vince anche una carta sotto per vincere il round corto contro charge calanti è sufficiente se avete 3 o 4 carte mettere la tartaruga tenere la dracar lui non può sparare perché sennò vi aiuta e quindi finito di fare le sue cosine cominciate a farvi Mardrum su tartaruga dracar eccetera e vincete così ricordate che contro nani regni settentrionali vincere round 1 è tanta tanta roba anche contro bleeding monster ma più contro gli altri due basta penso di avere vabbè mirror di schelega non esistono ma qualora servisse siamo bentunati in mirror di schelega tenetevi stretto Morkwarg e cosa mi sono perso mi sembra di aver coperto tutte le fazioni ah si ah null sindacato sindacato è un match up come per tutto il resto dei mazzi di guenta a sfavore però c'è qualche spot in cui si può vincere io ho fatto 5 game oggi contro sindacato ho fatto 3 vinte e 2 perse una di quelle vinte per una misplay del mio avversario che forse però avrei vinto lo stesso quindi è un po' 50-50 sindacato è molto difficile è molto difficile con sindacato bisogna pushare perché bisogna prendere tante cose prima del round 3 bisogna prendere prima di tutto filippa poi morels poi graden e se riuscite a prendere un purify nel mucchio bene borsodi non vi da troppa noia ma rompe il cazzo in linea generale ma se riuscite a prendere morels e graden siete a tre quarti dell'opera anche il defender chiaramente vi da fastidio ma noi non interagiamo più di un tot con la bordo dell'avversario quindi comunque non è così tragico diciamo che morels e graden sono i due big cosi da prendere poi filippa e poi diciamo cane defender ma se prendiamo l'importante per noi è prendere graden e morels che sono le sue risposte principali attenti ai poison mi raccomando contro jolly so benissimo che purtroppo un poison non è avoidabile o una taglia non è avoidabile per quello cerchiamo di spingere per fargli usare il leader a una certa perché se usa il leader poi non può fare due poison nello stesso turno quindi abbiamo tempo di fare in modo che gremist ci pulisca gli effetti poison tutto qui bene penso di avere detto praticamente tutto adesso arriveranno le due anzi le tre partite dimostrative perché una dura veramente poco perché era contro un un muvatelle che si è un attimo incazzato dopo quel game quindi ecco bene noi ci vediamo dal lunedì al venerdì alle 14.30 su twitch sul mio canale per lo streaming pomeridiano vi ricordo che probabilmente nel giro di un mesetto cambierà l'orario di streaming comincieremo a streamare la sera per via dei miei nuovi orari di lavoro e niente vi auguro un buon weekend e ciao bene siamo contro big monster o quantomeno visto l'hero power dovrebbe essere big monster questa la possiamo cavare che tanto abbiamo due sacerdoti in mano il fulmine contro di lui non dovrebbe avere troppo valore in realtà possiamo anche levarlo poteva andare meglio ma neanche di tantissimo in realtà non ci sta allora partiamo facendo questa così evitiamo bene metà per due della mia forza giocare qualcos'altro il fatto che non abbia messo lo schifezzino lì da uno so bene perché però vabbè coraggio amico Giozef ovviamente gli è andata anche bene oddio bene no perché poteva andare qua sopra ma non capisco l'ordine delle sue giocate ciò nonostante come è che dicevano gli antichi non si può sicurare passa ma ciò intanto io non so voi amici ma fa un freddo mamma mia cioè si muore qua porca miseria comunque vabbè lui ha pericchia di triv niente di troppo strano questa è un po' più strana il fatto che lui se ne voglia andare da questo round non ho capito però non importa potremmo mettere questa così e più che altro sta pushando per uscire dal round con un big contro un mazzo che ha round lungo virtualmente lo prende anche a testate se faccio più punti io in teoria ma guarda che peccato ne abbiamo un'altra eh mannaggia buona idea ok quindi questa gioca per 7 noi ne pigliamo poi 3 a turno 7,10,13 ne abbiamo a 20 no sì vabbè sta rischiando questo tizio perché non si rende conto di essere veramente tante però va bene dai facciamo così direi non ho capito il più 5 sulla trive comunque ciononostante ho giocato anche il il troll dopo le trive malattie altra trive ma ecco perché volevo andare via perché aveva la mano monotrive è stato il tuo discorso amico bomber questa da un punto in più però se va sulle trive lo aiuto quindi in realtà conviene comunque ed è già indietro quindi deve cominciare a mettere i suoi los cicciones ecco lì ecco lì esabiglia una valangata di punti di trive quindi noi qua prendiamo altri 6 7 8 adesso si conviene fare questo qui sopra quella con l'armor proprio la peggiore in assoluto vabbè ma perché incontro questi io vabbè siamo un po' indietro ma questa cosa può trovare può trovare la mardrom quindi ok sei sempre indietro devi tirare qualcosa se no hai perso il round eh hai perso io questo ufficio abbastanza pazzo pazzo matto matto noi contro big monster nostra carta di vantaggio ce la pigliamo col sorriso sulle labbra actually ma nessuno dice niente round lungo sto deck al di là che ha fatto spora da un milione nel senso ok non penso che noi abbiamo modo di perdere questo game sinceramente non c'è veramente modo e maniera di perdere questa partita questo sick drift su cosa sul cazzo praticamente perché non c'abbiamo nulla pulminiano vago rotto i coglioni comunque possiamo prendere la tartaruga e sfruttare la tartaruga assolutamente sì partiamo di questo questo vediamo se è il caso di tirare hero power magari sul vecchietto non lo so possiamo anche uccidercelo da solo al vecchietto abbiamo modo e maniera di fare cose quella va bene soprattutto visto che è nata morta ma gliela uccideremo dopo non c'è nessuna fretta non c'è nessuna fretta per forza va sull'armor un po' tutto armor facciamo così andiamo dentro questa va bene cioè più che altro non va bene perché perdiamo un po' di value da però grazie davanti peccato che tristano è una carta di schede sarebbe stata infinitamente di figa oh si a questo punto possiamo anche mettere questa abbiamo potuto anche mettere già la 3 a minare sulla 7 vediamo quella è nata morta quell'altro è nato morto con due carte in mano gli leviamo 25 questo punto delle tartarughe è l'ultima che cos'è di così meraviglioso signore che cos'è un più 6 su qualcosa a caso ecco esattamente così questo già basta così ma siccome siamo dei grandissimi figli di troia facciamo anche sono già stato gentile a non pingarmi la tartaruga per l'ultima volta quando vorresti beccare in anima invece trovi sta roba che ti sposta di sacerdoti e rompe pure il cazzo mettiamo questa nel deck questa probabilmente contro muvatel è molto buona questa non lo so potrebbe ma non si sa in realtà in realtà valore lo si trova su sta carta comunque direi che sta più che meno diciamo anche di red quindi festa grande mamma mia stanno sul cazzo a tutti spiace che spiace come osa costui mi chiedo io abbiamo target tipo dria di matrona e altre cagate che sono nettamente più fighi per tirare questa quindi questo pulmine ce lo deniamo caru core proprio mi direbbe il mio amico calupano ce lo denimmo caru core credo si dica così non so il napoletano ma che bel pezzo di merda che abbiamo contro quindi facciamo così non hai proprio niente di meglio da fare non dice pure il giocchiaccio giocare quei blocchi molesti mostro bravo usa le charge mostro di ciattolo bravo ok ti insegno un detto che si dice dalle mie parti che si dice quando pesti una merda di cane per strada non strofinare la suola delle scarpe su un cespuglio perché se ti muovi da dove hai pestato la merda ne vesti un'altra più grossa molto bene nani di qualità quality due off quality due off quality due off bene abbiamo vinto even siamo molto veri forti abbiamo anche presi una leader una charge del leader proprio mi sentirai maleducato a non pusharti quindi anche per educazione mi sembra che sia giusto pusharti detto tutto ciò abbiamo il decreto per questa o eventualmente questa adesso vediamo e il vecchio bastardo per restituire the rights free rights quindi direi che partiamo di vecchio porco anche per educazione prendiamo questa roba qui però adesso devo vedere dove mettere dietro perché c'è tutto dietro è tempo di acquare acqua pure tu a brochi non si beve ma che felicità no si forse magari no poi non ha mica detto che giochi l'acqua però hai proprio rotto i coglioni con quelle carte dietro posso dire che hai proprio rotto i coglioni amicizia perché poi mi sembra anche simpatico però comunque rimane defender anche se la blocchi ma che peccato unica cosa che non so tiriamo dentro la tartaruga andiamo lì intanto abbiamo una mano troppo forte per perdere se non puoi levare il defender perché Ida l'ha già usata e non puoi spostare Ibi ma quando mi pi ma quando mi pi mi pi mai anche a romano non lo so si però ci allengiamo così vola vola sposta quel defensor sposta quel defensor poi devi spostare anche la cina devi spostare tutto è un movimento continuo muove la cavesa proprio muove la colitta 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 muove la colitta tata tata allora lo vedi non ci provare a prendere quella tartaruga che t'ammazzo t'azzardare t'azzardare su le peperone arriva il wine arriva il wine arriva il low roll e arriva la free win oh my beauty escalante oh my beauty escalante oh my beauty escalante siamo contro ecomistica va bene siamo tornati alla normalità sarà nani o sarà armonia sarà nani questa in realtà siamo brutta no no e che cazzo comunque partiamo con questa forzando il suo 4 con vitality piuttosto che giocare subito il berserker ti vergognare carbone dai sentiti libera mi sto congelando wow però qualcuno non io direbbe che sei un po' vedi ok allora vediamo dove va questo ping abbiamo un ricco e corposo 50-50 50-50 50-50 never go però vabbè deve andare peggio sì 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 va bene molto bene molto molto bene così così se lui pinga con un berserker su quello si piglia altri due danni e possiamo mettere il barcone ma non posso mettere bleeding prima che li trasformi grazie c'è pericolo che ne missano uno chiaramente faremo tanto lo sappiamo che se andiamo a round 3 con questo che tira 8 berserker o 15 mercenari non possiamo vincere noi come nessun altro quindi bene andiamo a rischiare fino alla fine rischiare la quercia rischia tutto tanto se arriviamo a round 3 che lui deve usare la 9 grad justice abbiamo perso per cosa è così che va giocato contro se non l'estende lei si prega virtualmente funziona più o meno così detto tutto ciò limitiamo ovviamente aspetta un po' ma io non ci metterò ok non ho niente non ho come di far cagate eeeh possiamo fare così ma in realtà è avanti non vi nego che sia avanti però abbiamo levato l'armor quindi adesso lui da qua in poi deve utilizzare gold eh se no non ci sta niente ma a me non interessa ce le uso anche tutte non non è possibile andare a round 2 3 ma si vai a dare del culo puttana allora andiamo a risuscitare il barcotto adesso di sto gran cazzo mignotta lurida perchè questa l'hai tirata quindi o fai zoltano o prendi il cazzo ah 3 6 8 9 ma che peccato non è morti più schifosa di merda adesso non è morti più se niente niente cazzo pesco un ressino ti salgo in testa con la mia tartaruga pesca la tartaruga pesca la tartaruga e pesca la tartaruga fanculo ho detto pesca la tartaruga dee 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 c'è molto bene la pesca la tartaruga adesso che cazzo fai ah devi fare i mercenari eh pagliassissimo dai ah si eh ah si eh eh si eh faccia di merda eh no no sembra che abbiamo un buon catch oggi mandare un round corto anche una carta sotto va bene ma round corto quella non mi piace beh sei anche gestire le charge dai nani devo dire fai bene a demotare i can help you if you wish push me and then just touch me so i can fuck you vuoi che Aspetta un altro po' comunque a tirare lo power eh Perché tranquillo che non succede niente Va bene Allora potremmo restare il vecchiaccio E fare Freya Allora questa qua è sicura Prima di fare cagata Dopodiché Lui dovrebbe fare 13 con 2 Sono quasi sicuro che Non ce la posso fare Da come ha splittato le unità Ma io ce l'ho un po' round corto Quindi Non mi preoccupo Dai dai Facci e vede Come lo risolvi senza hero power Sa roba Infatti siamo tranquilli Perché se lui utilizza le due carte Si tiene il leader E rimette dentro i mercenari Noi partiamo di nuovo di tartaruga E lui sta fermo E lì sono solo 10 Ne mancano ancora uno Ok Ci sta Guarda E' un po' Il radizio è ufficialmente Rigorosamente Senza gold Nel mazzo E' rimasto Lulla La spell che ne evoca 3 Che non gli serve un cazzo Allora Noi vogliamo questo O questo O Ma no Questa sicuro Non la vogliamo Pusha La tartaruga So I can get my Tartarugo Berserker Se sei uomo Metti berserker Porco lurido Metti berserker Sentitela Maialino maialino Metti metti il berserker Che sei veramente il re dei bastardi Questa è stata una bella giocata Questa è stata una bella giocata Ah io admiti Eh ma che merda Se non è bella giocata Potrei dire 30 mesi In un totale down Effettivamente Comunque Nel dubbio Noi facciamo così Death's from all evil Dove cazzo Eccola qui Vediamo questo Vediamo questo Vediamo questa carta Prontissima Faccio vedere io come si usa il leader Faccia Dura merda Ecco qua così Ecco la grande Eh Potere tartaruga Molto bene Assolutamente Siamo discretamente Siamo più o meno pari Ma noi abbiamo la mega tarta gigante Questa tarta torta gigante Con quella non ci fai niente Ma che peccato Pensa Già bastano quelli che ci sono giù a pareggiare Ma noi abbiamo questo bel tronchetto da sette Nano dei miei coglioni E adesso emota ancora Surrenda Non passo Surrenda E molto ancora Bisogna neanche il gg Non te lo do perché sto registrando Ma non te l'avrei dato Ma non te lo do perché sto